Preghiera del mattino Signore Gesù, perdonaci se noi che riceviamo la manna del Tuo corpo e del Tuo sangue nel deserto di questa vita, qualche volta abbiamo mormorato tra di noi e contestato contro la volontà del Tuo Padre. Aiutaci ad ascoltare umilmente la Tua parola e ad apprendere la verità. Concedici di rispondere nella fede e nell'amore al Tuo pane vivo. Qui ed ora, in modo da essere innalzati alla pienezza della vita nell'ultimo giorno. Amen.